Magari molti di voi in questo momento si stanno spaventando del 5G e degli effetti delle onde elettromagnetiche, ma vi posso assicurare che di qui in avanti, almeno per i prossimi mesi, si parlerà molto molto di più del 2G. E si prevedono tempi bui. Di cosa si tratta? Questa è la legge! 2G sta per geimft, genießen, due parole tedesche che appunto iniziano con la G e che significano rispettivamente vaccinato e guarito dal Covid, si intende. Ebbene, la Germania potrebbe adottare a livello federale la cosiddetta regola delle 2G, che prevede l'accesso ai luoghi pubblici solo per chi è vaccinato, geimft o guarito, genießen, ovviamente dal Covid. Al momento solo alcuni lenda hanno adottato queste restrizioni, ma è attesa una decisione da parte del governo per tutta la Germania. A Berlino la regola delle 2G è in vigore da lunedì 15 novembre, in Sassonia ancora prima. Ed allora, con l'aumento dei casi di Covid, almeno nel nostro paese, il timore di nuove restrizioni, alcuni governatori hanno proposto di adottare un modello simile a quello tedesco delle 2G. Negli alberghi e nei ristoranti entrano solo vaccinati, genieft, e guariti, genießen. E stamattina si parlava di ripristinare in Italia le zone gialle, arancioni e rosse, ma solo per i non vaccinati. L'Austria, per esempio, lo ha già fatto, ha attuato una sorta di lockdown solo per le persone che non si sono vaccinate contro il Covid. Attualmente nel nostro paese vince l'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi pubblici come ristoranti, cinema, teatri, università e scuole sul luogo di lavoro, ma anche sui treni ad alta velocità, sulle navi e negli aerei. Vi ricorderete le critiche al governo di questi ultimi tempi? Critiche che hanno giustamente messo in risalto la contraddizione del sistema del Green Pass. Perché? Perché permette a vaccinati e guariti di entrare in contatto con tamponati infettandoli. E allora si è detto giustamente che il Green Pass non tutela tutti, meno che meno i semplici tamponati che non hanno gli anticorpi, ma stanno a contatto con chi invece li ha. E allora è proprio il caso di dire che tanto tu o no che alla fine piove, perché tutte queste critiche al sistema disegnato dal governo sono giunte ora al destinatario e il governo vuole togliere il Green Pass e i tamponati lasciandolo solo a guariti e vaccinati. Le due G appunto. L'altro ieri Renato Brunetta ha detto a porta a porta le restrizioni cromatiche si applichino solo ai non vaccinati. Il titolare della pubblica amministrazione è il primo tra i ministri a schierarsi apertamente dalla parte del presidente della conferenza delle regioni e dei governatori, che vorrebbe evitare le chiusure provocate dall'aumento dei contagi e soprattutto dalle ospedalizzazioni. Ma i numeri dicono anche che il 74% dei ricoverati in terapia intensiva non ha ricevuto alcuna dose di vaccino o almeno non ha completato il ciclo vaccinale. E questo emerge da un'analisi che è stata pubblicata di recente dalla rete degli ospedali. In particolare, secondo quest'analisi, nella settimana fino al 16 novembre solo il 26% dei positivi in intensiva ha avuto le due dosi e di questi però il 70% presentava delle patologie pregresse. Per questo i governatori premono affinché l'inalzamento dei contagi e la conseguente occupazione dei posti letto non sia pagata anche dai vaccinati. E lo fanno soprattutto i governatori del nord, in particolare quelli del Fiuli Venezia Giulia e della provincia di Bolzano, perché temono che le restrizioni possano pregiudicare le attività economiche e i locali delle loro zone. E allora rifacciamo il punto dei colori perché quest'estate con il cielo tinto di azzurro ce li siamo dimenticati. Partiamo dalla zona gialla. Con il nuovo colore giallo le mascherine che in zona bianca sono obbligatorie al chiuso in gialla devono essere indossate anche all'aperto. Cambiano poi le capienze, si scende al 50% per teatri, cinema e sale da concerto e stadi e al 35% per gli impianti sportivi al chiuso. Restano chiuse le discoteche. Non c'è alcun limite agli spostamenti tra le regioni né agli orari di circolazione. Dunque non c'è un coprifuoco e i ristoranti possono stare aperti sia all'interno ma con il Green Pass che all'esterno anche senza. Nelle zone arancioni invece gli spostamenti sono consentiti solo nel proprio comune, ma c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5 della mattina. L'entrata e l'uscita dai territori arancioni sono consentite a chi è provvisto di Green Pass. È sempre consentito il rientro alla residenza, al domicilio e nelle seconde case. I negozi sono tutti aperti, anche i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici. Nei weekend i centri commerciali restano chiusi. Sono chiuse palestre, piscine, teatri e cinema. È poi vietato il servizio al tavolo in bar e ai ristoranti. Gli sci sono consentiti, con tetto però agli ski pass. In zona rossa invece c'è il lockdown. Non si può uscire di casa se non per comprovate tramite autocertificazioni, esigenze lavorative o per motivi di salute e necessità. Il Green Pass può consentire di muoversi però liberamente, anche da una regione all'altra. Sono chiusi i negozi al dettaglio, fatta eccezione per i generi alimentari e di prima necessità. Restano chiuse le palestre, le piscine, i teatri e i cinema. Resta consentita fino alle 22 la sola ristorazione con consegne a domicilio oppure da asporto. Bene amici miei, questo 2G è davvero terribile. Ne parleremo nelle prossime puntate. Questa è la legge? Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.